Da ieri Biancazzurri in vacanza. Archiviato il girone d'andata con la vittoria sul Venezia con sette punti nelle ultime tre partite che l'hanno riportato a ridosso della zona playoff, il Pescara si gode il momento di riposo con molte tensioni in meno rispetto a due settimane fa. La squadra riprenderà la preparazione agli ordini di Zeman domenica 7 gennaio in vista di un girone di ritorno da disputare a ritmi più sostenuti per centrare una delle prime otto posizioni. Nessuna sosta per il presidente Sebastiani e per i direttori Leone e Pavone che preparano una sessione di mercato molto importante. L'auspicio da un lato è di assecondare i desiderata di Zeman che vuole una rosa molto più snella. Dall'altro è quello di non ripetere gli errori degli anni passati quando spesso il mercato di gennaio più che soluzioni ha generato ulteriori problemi. Prima di tutto sfoltire. Mirko Pigliacelli va in prestito alla Provercelli. Il giocatore ha già assistito al Piola due giorni fa la sconfitta dei piemontesi contro il Cittadella. Da titolare di inizio campionato all'esclusione con clamorosa tribuna di Empoli per l'estremo cui il Pescara aveva rinnovato il contratto ad inizio campionato per altri cinque anni. Altro partente che con Zeman non si è preso mai ma sin da inizio stagione è il centravanti Simone Andrea Gans su cui ci sono il Foggia e il Lugano ma soprattutto l'Ascoli di Cerse Cosmi che per tirarsi fuori dalla zona retrocessione è disposto anche ad un importante sacrificio economico per acquistare il cartellino di Gans. La società del patrone Bellini ha formalizzato un'offerta di 1,8 milioni al Pescara che così non correrebbe il rischio di scrivere una minusvalenza a bilancio. Quasi una manna visto che il giocatore non ha messo insieme neanche 90 minuti in campionato. L'Ascoli ora aspetta risposta dal Pescara e dal giocatore. Stesso tragitto Pescara-Ascoli potrebbe essere percorso dal terzino Antonio Mazzotta che invece è stato un titolarissimo di Zeman. In campo 20 partite su 21 ma potrebbe trasferirsi poiché il suo contratto con il Delfino è in scadenza. Zeman farebbe a meno di alcuni senatori ma difficile trovare collocazione per Campagnaro, Stendardo che potrebbe avere un ruolo dirigenziale però e Bovo che dopo l'operazione sarà fermo due mesi. I pezzi più pregiati in uscita potrebbero essere Benali e Zampano che hanno avuto un rapporto ondivago con Zeman. I due possono partire solo in caso di offerte particolarmente convincenti anche se Benali allo Stato è fermo dopo l'operazione alla mano e potrebbe rientrare a febbraio. Il buon finale di girone d'andata frena la partenza di Valsania e allora potrebbe essere uno tra Coulibaly e Canutè a lasciare Pescara. Su Coulibaly peserà anche la parola dell'Udinese proprietaria del cartellino dalla scorsa estate. Sul fronte attacco Cappelluzzo tornerà al Verona, Cocco sarà l'alternativa a Pettinari. Le principali esigenze in entrata sono in difesa visti anche gli infortuni del suddetto Bovo e di Fornasier. Il classe 99 Bastoni, primavera dell'Atalanta ma ora di proprietà dell'Inter, resta nel mirino ma serve anche un difensore più rodato e pronto all'impiego. Altri puntelli nel ruolo di terzino, mezzala ed esterno d'attacco. Su quest'ultimo fronte il Pescara si è mosso per avere in prestito l'esterno romeno e figlio d'arte Yanis Agi cui è interessato anche l'Empoli. Al club viola tornerà Jaime Baez per il quale la parentesi in rivale adriatico è al capolinea.